Lo sta massacrando? E' mia la preda comunque, sono io che vi ho invitato, cretini! Ciao a tutti ragazzi, sono Celofy e adesso siamo qui in questo nuovo video di Monster Hunter World. Quello che ho appena fatto è stato lanciare un razzo SOS, in questo modo giocatori completamente a random potranno unirsi a me in questa partita. Speriamo che succeda perché non ci ho mai provato, sono davvero curioso di vedere se succede qualcosa. Questo oggi andremo a caccia di un dinosauro con la testa molto elettrica, cosa del genere, che nello scorso episodio abbiamo visto ma non l'abbiamo affrontato. Allora comunque queste qui forse sono le sue impronte, o forse sono quelle di uno che abbiamo già sconfitto? Non lo so. Questa è herba, ok non mi interessa. Io comunque le seguo e vediamo un po' se lo trovo. Ah è vero, mi sono dimenticato di dirvi che purtroppo settimana scorsa non sono riuscito a far uscire il video perché per vari motivi, non ci ho avuto tempo di registrarlo, quindi come già avevo anticipato, purtroppo non sempre riuscirò a far uscire questa serie perché è molto impegnativa da registrare. Diciamoci sto mezz'ora di solito minimo, perché i mostri sono difficili da cacciare. Comunque seguo all'impronte. Dovrebbe essere eccolo lì, il nostro caro amico dinosauro ancora vivo spara cose dalla testa insomma. Vieni qui! Non ricordo come si attacca, da quanto è che non ci gioco? Allora aspetta come salto? Come faccio a fare il salto? Non così? 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 Allora aspetta eh. Come si fa il salto? Così? Così? Ok. No, non ho capito. Allora aspetta aspetta aspetta. Ci sto avendo lì problemi, allora così. Ok ok ok. È più difficile di quello che mi ricordassi e fare le cose in automatico come sempre però. Vieni qua. Ah io sto già massacrando. Non credo che sia molto forte questo eh. Mi ha dato una piedata devastante ma vabbè. Vieni qui! Perché dovrebbe essere un mostro di velo bassino eh. Eh infatti non è una missione principale ma è facoltativa però a me piace comunque farle. Quindi ok. Eh come si lancia l'insetto con la C. Ok. Temete l'insetto! Dove va? Insetto? Insetto? Ah è vero per farlo automatico? Vabbè lo faccio dopo. Intanto adesso salto un po' avanti e indietro. Avanti e indietro. Nessuno si vuole unire alla mia caccia però uffa. C'era tantissima gente là in prima l'ho visto ma nessuno si vuole unire. Peccato. Comunque ho provato prima a fare una partita online ma è finita subito. Proprio subito. Sempre contro questo mostro qui. Io sono entrato e non ho fatto neanche tempo a vederlo che l'hanno ammazzato. Ok comunque bene. L'ho fatto cadere. Come si fa quella mossa? Così? Benissimo. Guarda l'insetto che butta gli insetti esplosivi che esplodono in migliaia di insetti. Troppo potete l'insetto. Eh. Ok. Mamma mia. Guarda. Roba che scoppia ovunque. Comunque lui resiste ancora. Io me lo aspettavo molto più debole. Ya. Plumper cosa fai? Plumper. Plumper mi ha dato una botta. Ok. Mancato. Ma io che fail che faccio talvolta. Eh. Pegati questo. Mamma mia. Oh cavolo. Adesso non bisogna guardarlo. Ma io l'ho completamente girato dall'altra parte. Come hai fatto a beccarmi? No no no. Riprenditi. Eh vabbè. Io stavo guardando dall'altra parte del mondo. Fammi. La richiesta di partecipazione è stata gestita. Dishonji sta per unirsi. Dishonji presto. Dishonji. Dishonji aiutami. Non c'ho bisogno del tuo hito. Sto nel fondamentale. È ovvio. In questo momento è proprio il mio primo pensiero. Scambiare la tessera gilda eh. No 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 no. Dishonji. Aiuto. Dov'è Dishonji? È arrivato. C'è pure Rico. Rico è il suo gatto mi sa. Aia. È andata una botta. Seshchat sta per unirci. Unirsi. Mamma mia che bello. Devo farle più spesso le missioni multiplayer. Il fatto è che poi forse è diventato un po' facile. Vediamo un po' come si evolve la situazione. Però Dishonji non sta arrivando. Ok forse lo vedo sulla mappa. Seshchat è arrivato pure Seshchat. Benissimo. Siamo in 3 su 4 perché il massimo è 4. Mi piacerebbe fare anche delle partite con gli iscritti. Oddio. Via via via. Bevi. Bevi. Via 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 via. Ok. E. Vada bam. Eh sì. Mi ha un po' accecato. Aiuto sono nei guai. Ecco. Via via. Ma quando arriva? Eccolo. Guarda come arriva maestoso e lo manca. Mamma mia che lag. E. Senti che fai lagare così. Cosa stai facendo? Ok. Ciao eh. Ciao Dijoni. Ciao. Io seguo il coso. Dove è andato? È di qua. Seshchat lo stai inseguendo. Arrivo Seshchat. Arrivo. Guardalo. Eccolo lì. Ma no è troppo bella sta cosa. A me piacerebbe fare delle partite così con gli iscritti. Eh. Perché comunque appena io pubblico diciamo rendo pubblica la partita tutti nel mondo la vedono. Se magari ahia durante una live o qualcosa del genere a volte che non posso fare le live. Dico appunto metto la password e cose del genere. Voi potete unirvi perché ci sono anche le password. Io ovviamente non l'ho messa perché sennò questi non potevano arrivare. Mi piacerebbe bere il succo. Alla pera. Ok. Tanto esplode cose. Quelli lì sono fortissimi. Guardali. Lo sta massacrando. È mia la preda comunque. Sono io che vi ho invitato. Cretini. Guarda come lo ammenano. E mi squilla il telefono. Ciao eh. Io non ti rispondo questa volta il telefono. Via 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 via. Fuga? Scusate se c'è il telefono però. Non posso risponderli. Perché in questo momento è un momento epico. Guarda che roba. Riprenditi. Quello c'è l'armatura scarlatta. Ce la faccio a riprendermi? Stai zitto. Telefono. Forse nel video non si sentirà neanche perché c'è la rimozione dei rumori. Eh. Ma pure lui c'è l'insetto. Quello è il suo scarafaggio. Ma è bellissimo. Guarda. Stai zitto. Uffa. Oggi che il cane è stato tranquillo c'è il telefono. E sono confuso. Ma non credo che sia il suo insetto comunque. Forse sì. Mi sa di sì eh. Insetto. Cavolo. Dai. Ma quanto è potente. Scappa. Sto cercando di capire cosa sta succedendo. Ok. Bene. Allora. Il telefono si è zittito. Questa è una buona cosa. Io c'ho ancora l'insetto di base. Forse dovrei provare a migliorarlo dopo. Ok. Temete gli insetti. Comunque. Come vi stavo dicendo prima. Sesschat. C'ha la mia stessa arma. E quindi c'ha l'insetto anche lui. Ma il suo insetto è fortissimo. È bellissimo. L'avete visto come era. Tutto epico. Il mio invece è quello di base. Devo migliorarlo. Sì. Ok. Ma lancia pure cose. E poi. Eh. Lo manco. Ok. Insetto. Ma mia. Siamo devastanti. Non so dove sono finiti i gatti. Mi sa che se ne sono andati. Perché i gatti se ne vanno se ci siano troppi giocatori. Boh. Uuuuh. Che mossa. Rodeo. Sto cavalcando il mostro. Sì. Voi menatelo. Io salto avanti e indietro. Sì. Mi sa che i gatti se ne vanno se ci sono troppi giocatori. Vedete. Non ci sono più. Né plumper né quell'altro lì. Comunque li sto facendo grossi danni. Guarda che roba. Anche loro eh. Dai che ci schiatta. Dai che ci schiatta. Schiattaci. È tutto spaccato lì. Guardate. Oh. Sono il migliore eh. Ma voi non sareste mai riusciti a salirci sul mostro. Io sì. Eh. È il momento di insetto. Ok. Non ci si capisce nulla. Aia. Mi sa che mi ha colpito. Sess chat. Sess chat. Elevati. Eh. Guarda come scappa. L'abbiamo quasi ammazzato. Baby baby baby. Voi che fate? Pure io devo fare così. Guardatelo sì. È quello lì è il suo insetto. È tipo una farfalla. Bella. Che fai? Se ne va? Aspettami. Uffa. Guarda lì come interno in azione. Mamma mia i danni che gli facciamo. Quante luci. Quante esplosioni. Magia. Rocce che crollano. Sì. Distruggiamo le montagne. Insieme tutto è possibile. Ok. Insetto. Insetto. Sì. Mamma mia. Mamma mia ragazzi. Bellissimo. Che vuol dire continua l'ascia? Non lo so. Io voglio ritornare alla base. Sì. Ok. Mamma mia ragazzi. Che lavoro. Con questo qui magari ci posso fare una bella armatura. Che mi servirebbe ultimamente. Beh ragazzi. Direi che perde tutto. Da me. Djoni. E Sesschat. È tutto. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. A tutti. Ciao.